Perdi la tua vita per Cristo. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi. Luca 17, 26, 37. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose, non scenda a prenderle. Così, chi si troverà nel campo non torna indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà. Ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto. L'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo. L'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora li chiesero dove è il Signore? ed egli disse loro dove sarà il cadavere. Lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Amen. Cari amici, siamo sempre in un contesto lucano di questo Vangelo, secondo Luca, verso gli ultimi capitoli. ed è un discorso escatologico dove Gesù parla degli ultimi tempi, della fine dei tempi, ma anche della sua venuta, ma soprattutto del nostro atteggiamento, dell'atteggiamento di ogni persona e la preparazione di questo arrivo suo. Ecco che elenca una serie di fatti storici, biblici, della storia della salvezza. Elenca fatti in cui Dio è intervenuto fortemente, cancellando, annullando, distruggendo il male e portando la salvezza a Noè, a Lot. Quanto importante dice che chi vuole seguire lui, chi vuole seguire Cristo, abbia il coraggio di perdere la propria vita e al tempo stesso non cercare di salvare se stessi. Queste parole sono molto dure e c'è bisogno anche di una piccola riflessione perché ascoltata così lo slogan stesso di oggi è molto provocatorio. Quando uno ascolta questa espressione perdi la tua vita per Cristo, sembra che seguire Cristo significa rinnegare se stessi tutto quello che si fa, tutte le bellezze che ci sono nella propria vita e invece seguire solo Gesù. Il resto quasi non importa. Da un lato è vero ma c'è un'attitudine importante. Chi segue Cristo ha scelto, ha scelto, ha deciso di metterlo al primo posto proprio come nell'antica legge Deuteronomio, capitolo sesto è scritto Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutto ciò che hai. Quanto è importante seguire Cristo in questo modo? Seguire Cristo non è seguire una religione. Mettiamocelo bene in mente. Io so che esistono materie teologiche che si chiama storia delle religioni, si studiano le varie credenze, però se noi classifichiamo la nostra fede come soltanto una religione, che chiaramente ha senso, in questo aspetto io Dio relazionale e di comunione, però in realtà la fede è un'esperienza da vivere e vissuta quotidianamente, non in un tempo e in un luogo limitato, bensì 24 ore non stop, perché Cristo è presente sempre con noi, quindi non è che quando io mi ricordo di Dio e seguo il Vangelo ecco quello è il tempo della mia fede, il tempo della fede è tutta la vita e io con tutto il mio cuore, con tutto me stesso lo seguo, metto il nome di Gesù al di sopra di ogni altro nome, ma queste non sono parole fratelli e sorelle, perché spesso noi siamo abituati ad ascoltare predicozzi, cosa sono i predicozzi? sono degli insegnamenti spirituali anche molto belli, un po' lunghi e anche pesanti, sappiamo che sono veri ma diciamo mamma che predicozzo, padre Luca oggi potevi dirci qualcosa un po' più di leggero, oggi potevi alleggerirci la giornata, ma tu ci dici che dobbiamo seguire Cristo tutto il giorno, a me bastava quel poco tempo prima di andare al lavoro o quando io mi ricordo quando sono in macchina da casa mia al luogo del lavoro o la sera prima di andare, a me mi bastava quello e tu mi dici che la fede invece è 24 ore non stop, è un ciclo continuo di comunione, di relazione con Dio, sì, ecco che cosa significa perdere la propria vita per Cristo, significa prenderla come io prendo questo piccolo messalino dove c'è la parola di Dio come se fosse la mia vita e gli dico Signore ogni giorno ti affido la mia vita, io la consegno nelle tue mani per non gestirla più da solo nelle scelte, nelle decisioni, nelle vie di uscita, in tante situazioni che devo affrontare, io la consegno a te, quindi i miei problemi, le mie situazioni non sono più mie ma tue, ecco cosa significa perdere la propria vita, consegnare ogni giorno il nostro cuore, quello che facciamo, quello che viviamo, le nostre crisi, Signore sono tue, liberami, guariscimi, restituiscimi la vita, cento volte tanto, piena di benedizioni, allora ogni giorno sì che decido di essere in comunione con Dio, e quante volte ci sono le domande come oggi ma dove, dove avverrà questo, o l'altro giorno ma quando avverrà, quando avverrà il regno di Dio, non è importante né quando né dove, ma è importante ciò che io oggi decido, il mio impegno personale, c'è un'urgenza di essere svegli fratelli e sorelle, c'è un'urgenza di vegliare nella nostra vita ma non dai nemici di fuori ma da noi stessi, dai nostri sentimenti che ci scoraggiano, che ci deprimano, che ci abbattono, di sconfitta, dai pensieri che non vengono da Dio, contro gli altri, contro il mondo intero, noi stessi siamo i più grandi nemici della nostra fede e il Signore vuole custodirci da ciò che è carne dentro di noi ecco perché urge una disciplina di vita, urge camminare secondo la parola di Dio, urge mettere Dio al primo posto quando tu oggi consegni la tua vita, la tua famiglia, le persone che ami, le più grandi difficoltà che stai attraversando, Lui le prende, le porta sul legno della croce dove è morto per te e ti dà la soluzione. Grazie Signore Gesù, grazie perché oggi sei venuto a parlarmi, a parlare al mio cuore, a parlare a tutte quelle situazioni che sto vivendo. Signore non voglio più viverle affrontandole con le mie forze da solo ma voglio viverle con il tuo aiuto, con il dono del tuo Spirito Santo che mi guida anche oggi e che mi fa andare avanti senza mai fermarmi. Donami questo coraggio di perdere la vita per te, di metterti al primo posto e di non anteporre giustificazioni di qualsiasi tipo per non pregarti, per non aderire alla tua parola. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora cari amici lo slogan di oggi perdi la tua vita per Cristo e noi sappiamo che perdere la vita significa consegnare ogni giorno al Signore quello che siamo, quello che abbiamo perché Lui ci restituisca cento volte tanto in benedizioni materiali e spirituali. Amen. Carissimi amici noi avremo tra una settimana un bellissimo corso incontro per giovani Shout Generation che faremo dal 24 al 26 novembre. Vi invitiamo ci saranno due giorni ad Europa a questo bellissimo santuario in montagna e poi la conclusione qui a Strona iscrivetevi sul nostro sito. Vi ringraziamo anche per tutto ciò che voi ci donate. Sapete che il nostro canale e la nostra comunità vive di provvidenza quindi se volete continuare a benedirci attraverso un piccolo vostro dono potete cliccare qui sotto su YouTube con un super grazie oppure un caffè per il Vangelo che troverete sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto buona giornata a domani ciao Ciao